Guerre dimenticate di cui nessuno parla più e potenze mondiali che sulla carta dovrebbero garantire la tutela dei diritti umani e che invece sono i massimi esportatori di armi. Di questo e di altri dati allarmanti parla il rapporto Il peso delle armi preparato da Caritas Italiana in collaborazione con Avvenire, Famiglia Cristiana e il MIUR. È stato presentato ieri in occasione dell'anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Guerre dimenticate di cui nessuno parla più e potenze mondiali che sulla carta dovrebbero garantire la tutela dei diritti umani perché membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e che invece sono i massimi esportatori di armi. Nel 2017 ben 378 sono stati conflitti tra cui 186 crisi violente e 20 guerre ad alta intensità. Diminuiti i conflitti non violenti di tipo politico territoriale mentre sono aumentate le crisi violente dalle 148 del 2011 si è passati alle 186 del 2017. La disponibilità di strumenti bellici è una delle cause della profonda instabilità politica che colpisce grandi regioni in Africa, Asia, Medio Oriente e senza contare i danni umani incalcolabili di una guerra. Sapere che una mina antipersona costa 3 dollari ma ce ne vogliono mille per neutralizzarla dà la dimensione della cecità della politica mondiale che l'anno scorso ha permesso il record di spesa per gli armamenti dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Dati allarmanti sono quelli contenuti nel rapporto di ricerca sui conflitti dimenticati, il peso delle armi, preparato da Caritas Italiana e pubblicate dal Mulino, in collaborazione con Avvenire Famiglia Cristiana e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Il rapporto è stato presentato ieri 10 dicembre nel settantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Lo studio di Caritas Italiana conferma che sono in aumento produzione e vendita di tutti i tipi di arma, dalle leggere all'atomica. Un fenomeno che secondo gli esperti dipende dal fatto che gli stati sono ormai convinti che per vincere le guerre servano arsenali sempre più ricchi e potenti. Nella classifica dei paesi esportatori di armi ci sono in testa gli Stati Uniti, seguiti da Russia, Francia, Germania, Cina e Regno Unito, poi Israele e Spagna, quindi l'Italia. Tra i principali importatori invece Arabia Saudita, Emirati Arabi, Australia, Iraq, Pakistan, paesi che contribuiscono ad alimentare i conflitti in Yemen, Nord Africa e Medio Oriente. Il report conferma poi con forza un binomio già noto agli studiosi. La povertà è più diffusa nei paesi in cui si combatte, così come viceversa, laddove sono più drammatici, recessione, disuguaglianze e scarso accesso a fonti di reddito, risulta altamente più probabile scivolare nei conflitti. Per contrastare la povertà diventa allora fondamentale ragionare sulle dinamiche alla base della guerra e incoraggiare buone politiche oltre che fornire aiuti. Infine il report di Caritas si concentra sull'impatto dei cambiamenti climatici su guerre e migrazioni. L'ONU stima in 250 milioni i migranti e in oltre 70 milioni i rifugiati e gli sfollati. Tutti gli indicatori del rapporto Caritas su scala globale legati al degrado ambientale e disastri alla scarsità di accesso alle fonti naturali contribuiscono a spiegare altre dinamiche di guerra. Quindi guerre dimenticate perché quasi nessun giornale ne parla. Il rapporto sui conflitti dimenticati ha anche preso in esame la copertura delle guerre da parte dei quotidiani più noti. Lo studio ha rivelato esattamente questa tendenza. Se il conflitto supera la fase acuta e non coinvolge direttamente il nostro paese scompare dai media generando un'informazione spesso provinciale e ripiegata sulle questioni nazionali che, secondo i curatori del rapporto, provoca un'altra grave conseguenza. Una diffusa ignoranza sul tema tra la popolazione italiana.